In occasione del Festival degli Aquiloni Emozioni a Naso in Su che si svolgerà a fine maggio a San Vitolo Capo la Trapani Eventi ha anche adottato una iniziativa particolare, quella di Miss Aquilone con un tour nelle discoteche, nei maggiori punti di aggregazione proprio per cercare di selezionare quelle che dovrebbero essere le partecipanti a Miss Aquilone una iniziativa che è anche un'iniziativa sociale Quindi quest'anno Festival degli Aquiloni, come dicevi, dal 21 al 29 maggio a San Vitolo Capo il tour che facciamo in giro per la Sicilia dal 7 al 20 maggio e abbiamo abbinato come novità Miss Aquilone un messaggio di positività che vogliamo lanciare a tutte le donne della provincia di Trapani non il solito concorso alla Miss, noi non cerchiamo le anoressiche non cerchiamo le persone che hanno problemi di disturbi alimentari anche perché ci siamo uniti all'associazione Ollus, proprio qui di Marsala, la BC di Rosalina e siamo in contatto anche con l'AIDAP, l'associazione italiana contro i disturbi alimentari e del peso proprio perché il messaggio che vogliamo lanciare è un messaggio di positività per tutte quelle ragazze che inseguono tanti sogni molte volte irrealizzabili, che rimangono solo dei sogni quindi una donna che abbia il sorriso, la gioia di vivere, la bellezza tutte le donne sono belle, ma che abbia anche questo messaggio di positività legata all'Aquilone, l'Aquilone che si libera nel cielo e che lancia un messaggio proprio di liberarsi da ogni dipendenza perché è bene seguire i propri sogni ma che siano realizzabili e soprattutto che non facciano male alla salute Ecco, questo tour, prossime tappe? Allora, noi stasera siamo a Trapani al Green Stage come locale sabato saremo all'Alter Ego di Partanna e poi invitiamo tutti a consultare il sito www.missaquilone.it dove andiamo a mettere tutte le date che concordiamo con i vari locali della provincia di Trapani e poi il sito generale www.festivalaquiloni.it dove si trovano tutte le ulteriori informazioni anche sul festival La rete ci consente di dare, oltre a voi che ci ospitate ci date l'opportunità appunto di comunicare queste nostre iniziative con la rete manteniamo aggiornati sempre tutti in diretta e dal vivo